Domenica 10 marzo 2013. Cominciamo dalla riete. Oggi finalmente potrete rilassarvi come meglio credete. Il vostro umore sarà disteso e socievole e non vi peserà più di tanto affrontare i soliti incontri familiari. Toro, oggi vi consiglio di non strafare. Prendete le cose con la vostra abituale calma. Sorridete davanti agli imprevisti. Gemelli, oggi sarà una buona giornata, il vostro umore sarà allegro e riuscirete a prendere ogni incombenza con il sorriso sulle labbra. Cancro, oggi non fate troppi programmi perché tanto non riuscirete a mantenerli. Tenetevi solo due o tre punti fissi, pranzo e cena per esempio, e per il resto navigate a vista a seconda di ciò che avrete voglia di fare. Leone, oggi sarete irrequieti e farete fatica a godervi la giornata di riposo. Se avete riunioni familiari di vario genere, sarete insofferenti ai soliti discorsi. Vergine, oggi potrete godere di una giornata tranquilla in cui rilassarvi come meglio credete. Potrete riordinare la casa, gli armadi, fare una gita fuori porta, invitare i parenti, qualsiasi cosa abbiate in programma si svolgerà senza tensioni. Bilancia, oggi sarà una buona giornata, ideale per rilassarsi e tentare di fare ciò che desiderate. Se avete impegni irrinunciabili, vedrete che non saranno così pesanti o noiosi come temete. Scorpione, oggi non sarà una gran giornata, quindi vi consiglio di attenervi alla solita routine, per sicurezza. Il rischio di appuntamenti saltati, arrabbiature durante i pranzi in famiglia. Sagittario, oggi sarà una giornata piacevole, ideale per rilassarsi e ricaricare le batterie, ma dovrete avere qualcosa da fare, luoghi da visitare, amici con cui condividere pranzo e cena. Capricorno, oggi il vostro umore sarà sereno e riuscirete a rilassarvi qualsiasi cosa abbiate in programma. Le riunioni familiari saranno piacevolmente prevedibili. Acquario, ottima giornata la vostra, ideale per fare quello che vi pare. Potrete evitare con grazia le attività che ritenete noiose, dare buca ai vostri parenti e dedicarvi alle vostre passioni, da soli o in piacevole compagnia. Pesci, la vostra sarà una giornata lenta da trascorrere nelle solite attività domenicali. Se riuscite, alzatevi dal letto più tardi che potete. Anche per oggi abbiamo concluso con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Vi aspetto domani alla stessa ora.